Siamo a Milano al Google Webmaster Minds, il primo evento che Google ha dedicato a tutti gli sviluppatori e webmasteri italiani. Si parlerà di Google Heart, di Google Sky, di Google SketchUp, di Google Maps, di Google Web Toolkit e di tante altre applicazioni sviluppate dagli ingegneri di Google. Entriamo e guardiamo le sessioni. Siamo con Stefano S a Google Webmaster Minds e con Stefano cercheremo di capire il video. E voglio dire qualcosa in più sul presente e soprattutto sul futuro di Google. Stefano, parlaci un po' di te, cosa fa in Google, un po' la presentazione. Ok, grazie. Io sono responsabile della comunicazione per il mercato italiano, quindi mi occupo di rapporti con le istituzioni, i media, le comunità di interesse, quindi l'associazione di consumatori, le comunità di business, che possono essere Confindustria e altro. E mi occupo anche di lanci e di eventi in collaborazione con i vari dipartimenti marketing e di prodotto. Una domanda soprattutto a Stefano riguardo al mondo dell'advertising. Google si erge su due grossi pilastri che sono AdWords e AdSense. Ci sono delle evoluzioni in programma? Cosa c'è nel futuro di Google in questo? Allora, diciamo che gli hai chiamati giustamente pilastri, quelli rimangono. Diciamo che il mondo dell'advertising che Google ha creato, cambiando un po' il paradigma di quella che è la comunicazione, è di riuscire non a invadere il tuo mondo di navigazione con dei messaggi pubblicitari, ma a aspettare che tu mi dia un segnale per capire che cosa vuoi. Tutto questo rientrerà in tutte le prossime evoluzioni di prodotto pubblicitario, quindi dal motore di ricerca e la conseguente pubblicità al sito di contenuto e la conseguente pubblicità, quindi AdWords e AdSense, fino a nuove modalità di interazione con il consumatore che possono essere dei gadget, ora si parla molto di widget, cioè di gadget creati ad hoc per l'utente, che quindi l'utente decide di personalizzare e inserire nei vari momenti in cui va a navigare. Un esempio fra tutti, iGoogle, cioè la possibilità di personalizzare la propria pagina di Google, può diventare, diventerà, sia una situazione in cui ho contenuto editoriale, quindi possono essere siti di giornali o altro, sia di contenuto dato da aziende che vogliono dirmi qualche cosa. Questo è utile non solo per noi, ma anche per tutte le aree di sviluppo che sono all'interno dell'agenzia pubblicitaria e che hanno nuove proposte a durare i clienti. Perfetto. Una domanda adesso su YouTube. YouTube è in sostanza costato da Google tantissimo, tra l'altro un miliardo virgola 650 milioni. Io devo dire che è stato il giusto rispetto al valore che quella comunità ha, assolutamente. Penso che inseriete a brevissimo la pubblicità, me lo confermi? Allora, c'è un test che per ora è per il mercato americano e l'idea è quella di capire come si può continuare a dare pubblicità non invasiva e targetizzata all'utente. Il primo test è dato da un layer trasparente sui video YouTube, test che è ancora ovviamente, come dice il nome, chiamiamolo beta, visto che noi è un nome che vediamo spesso, e per la quale non c'è ancora prevista una data per il lancio italiano. La domanda è questa. YouTube evolverà, secondo te, verso una web tv, visto che si parla tantissimo di questo fenomeno anche in Italia, evolverà o rimarrà più legato a questi video molto corti, molto brevi? Allora, lo spirito di YouTube è uno spirito in cui chi ha contenuto di idee può creare. Quindi che siano consumatori, aziende, politici, università, ospedali, quello è il contenitore giusto. Noi stiamo cercando di capire dove va l'esigenza dell'utenza. Devo dire che ultimamente dalla percezione che le persone possono avere di YouTube come sito, chiamiamolo, scusa l'inglesismo, consumer, quindi la mia gita fuori porta, il mio corso di snowboard, fino a contenuti di livello istituzionale. Abbiamo diversi politici in Italia e all'estero, diversi ministeri in Italia e all'estero che hanno lavorato o stanno lavorando per avere dei canali su YouTube. Fino a attività, come posso dirti, ieri guardavo chi dal Darfur sta dando aggiornamenti editoriali di quel tipo. Quindi sono qua, succede questo e te lo dico grazie a YouTube. Quindi non so se evolverà verso una web tv come la conosciamo adesso, sicuramente evolverà verso diversi modi di fruire il video online così come viene concepito ora. Benissimo, ora parliamo di social network. Google aveva a suo tempo preso Orkut, poi si parla tanto di social stream, questo social network a proposito di API che si parla tanto oggi con tante interazioni con l'esterno. Qualcuno dice che vi siete interessati a Facebook o anche a fare un'altra second live. Cosa c'è di vero? Allora, noi eravamo interessati a Facebook per la bella idea che c'è di sviluppo di applicazioni su quella piattaforma, però non abbiamo ancora delle velleità economiche sul sito. Per quanto riguarda quella che qualcuno ha chiamato la second live di Google, ecco noi ci chiamo di capire come le informazioni geolocalizzate e graficizzate, scusami il termine è un po' stupido, ma in 3D, possono creare una realtà in cui le persone creano e scambiano informazioni anche in un mondo che rappresenta poi quello che è veramente virtuale. La differenza è che second live crea un mondo che è simile a quello che noi conosciamo, mentre un'eventuale mappatura geolocalizzata in 3D rappresenta esattamente dove siamo, quindi questa casa, io e te, questa marciapiede, eccetera. Sono due modi diversi di vedere forse la stessa cosa. Un'ultima domanda che è la domanda trabocchetto, che molti lettori di Apple si aspettano. Si parla di AdSense per cellulari, si parla tanto di mobile. Il Google Phone esiste? Il Google Phone è più un concetto che un telefonino. Insomma, l'idea è quella di riuscire a dare una fruizione di qualità all'utente mobile, anche all'utente mobile così come ha sul PC. Quindi quello a cui Google da sempre lavora sono attività legate a nuove piattaforme che lavorano su quella piattaforma mobile, con qualunque tipo di operatore. Quindi spero di non deludere nessuno per i regali di Natale. Perfetto, ringraziamo Stefano e penso che ci vedremo al prossimo Google Mastermind. Ci saranno altri eventi? Stiamo sperando di riuscire a fare lo prima possibile. Sarà l'anno prossimo, questa volta al sud. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.